Strappato dal gioco, Marco Mantovanelli che vuole subito tornare al tavolo. Da dove vieni? Da Verona. Cosa ci racconti di questa avventura? Il mini-evento ieri è andato male. Adesso sto facendo il side-event, quello da 300. Sono un po' cortino, ma si tiene duro. Mancano 36 persone a 8 premi. Stiamo grappati con i denti. Cosa fai nella vita? Faccio il commercialista. E quindi per rilassarti giochi a poker, proprio in questo momento, dopo l'Imu e tutto il resto? Oggi invece di andare in ufficio sono venuto a rilassarmi. Quindi per te è un relax? Sì, sì, sì. Comunque vada? Sì, sì. Mi diverto. Da quanto tempo fai questo divertimento? Ah, 6-7 anni. Allora è qualcosa di più, dai. Sì, è una passione. Ok, grazie. Ciao.